ciao amici e bentornati sul canale oggi per la pulizia del lavello ho deciso di provare questo prodotto qui aurora che mi è stato consigliato da alcune persone della mia famiglia come ottimo prodotto per la pulizia del lavello in acciaio io la verità non l'ho ancora mai fatto incuriosita anche un po dal prezzo perché spero si riesce a visualizzare correttamente è circa 1 euro e 10 l'ho preso in un negozio di diversi della mia città e quindi proviamo e vediamo se riesce a soddisfare la mia esigenza di pulire come già in un precedente video ho raccontato che al momento per ora in pole position è sempre spicca e spanna il mio lavello è appositamente in queste condizioni proprio per vedere la valida del prodotto su uno sporco più ostinato ebbene proviamola ora e vediamo se in pochissimo tempo riesce a soddisfarmi a tra poco e Grazie a tutti. 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 Ci vediamo alla prossima. Ciao!